Nelle pentole, perché non è solo una, nelle pentole c'è parecchio fervore, siamo in prossimità dell'apertura di Garage Italia, per cui il nuovo locale è con la Poelka e aprirà il 7 novembre, faremo inaugurazione e subito dopo qualche giorno aprirà, per cui bello, molto affascinante, lavori molto importanti sono stati fatti per poter recuperare questo storico immobile e trasformarlo in un luogo contemporaneo, una delle prime stazioni di servizio fatte con delle idee molto innovative che poi è rimasta unica, per cui andare ad aprire questo locale è una grande emozione. Poi più avanti, credo fine anno, inizio anno nuovo, partiremo con il nuovo progetto di galleria, progetto di galleria, un progetto molto importante che farà vedere un po' l'evoluzione di quello che è stato i 18 anni trascorsi a Milano, perciò ci sposteremo di sede, andremo in galleria Vittorio Emanuele, avremo una cantina, un caffè, pasticceria, un ristorante gastronomico e poi una piccola parte di saloni privati. Perché siamo più bravi degli altri a fare cucina? Non è che siamo più bravi degli altri a fare cucina, è che noi viviamo per mangiare anche e abbiamo questo lifestyle molto forte, molto ricco che ci aiuta, ci dà una mano, ci consente di avere quella marcia in più, però non basta, non bisogna mai pensare di essere i più bravi o i migliori, bisogna lavorare molto, bisogna cercare di da un lato mantenere le posizioni e dall'altro sviluppare, ricercare nuovi obiettivi e nuove frontiere.